Ciao a tutti, io mi chiamo Enrico Tessadro e mi sono diplomato all'Iceo Nervi nel 2010. Faccio questo breve video per parlarvi un po' dell'esperienza che ho avuto e che l'Iceo Nervi ha contribuito a formare in qualche modo. Prima di tutto vi dico che l'Iceo Nervi comunque ha avuto una grande influenza nell'insegnarmi di essere curioso verso il mondo e quindi per questo aver fatto quel liceo e non un'altra esperienza di scuola superiore ha di sicuro influenzato non poco la mia vita. Detto questo passo a descrivere un po' quello che ho fatto. Dopo il liceo sono andato a studiare economia a Milano, l'ho fatta lì per 5 anni, ho avuto delle breve pause internazionali, ho fatto un'estate a Boston e questo sempre per soddisfare l'assente di conoscenza, la voglia di esplorare, per assecondare la curiosità di cui vi parlavo prima. Quindi ho fatto un'estate a Boston, ho fatto un semestre in Argentina, a Buenos Aires, è stata un'esperienza allucinante, in senso positivo ovviamente, e alla fine sono finito qua ad Amsterdam per rincorrere i miei sogni e per un'occasione di lavoro molto allettante e, che dire, sono qua. Di sicuro, però come vi ho detto, non voglio pubblicizzare il liceo, però il liceo in tutto questo ha avuto un ruolo fondamentale. Nel, diciamo, di trasmettermi questa voglia, veramente voglia di esplorare, di conoscere. Non vi tedio più, vi dico solo un mio consiglio personale, io non sto sponsorizzando il liceo, ma quello che vi dico è di comunque essere curiosi, capire quello che vi piace e lottare per inseguire quello. Non mi resta che darvi un grandissimo in bocca al lupo e buona vita!